Cominciamo a dire quali sono le tue condizioni fisiche, sei al 100%? Sì, diciamo di sì, ho avuto due settimane di influenza, quindi un pochino non ho avuto la possibilità di allenarmi, però questa settimana per adesso diciamo che sono stato col gruppo, speriamo di essere disponibile. Domenica il Teramo non ha giocato, secondo te è stato un bene o avresti preferito giocare? Ma secondo me diciamo che ci sono un po' tutte e due le possibilità, quindi un bene perché hai avuto la possibilità di riposarti anche dopo la partita di mercoledì, però un male perché avevamo preparato la partita bene, quindi mentalmente diciamo che eravamo sul campo. Il Sant'Arcangelo ha invito una pesante punizione al Teramo, quanta voglia c'è di rivincita e come affrontare questa squadra che fa leva sul collettivo? Sì, ma il 4-0 per noi è stato un pochino il K.O. che però ci ha fatto un attimo dare una svegliata, quindi noi affronteremo questa partita con la massima determinazione, come hai detto tu dopo il 4-0, per noi è stato veramente una settimana dura, dopo abbiamo avuto la Sant'Egidiese non era facile affrontarla con quella mentalità, quindi noi la stiamo preparando al massimo e speriamo bene. La partita domenica può essere l'occasione per eliminare definitivamente la lotta al vertigo del Sant'Arcangelo? Sì, ma è la svolta anche perché poi abbiamo tutte partite difficili, quindi inizia un altro campionato da domenica, quindi speriamo di giocarci al meglio e di lasciare il Sant'Arcangelo il più in basso possibile.